Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in a 12 restano code a tratti per lavori tra Carrara e Massa nelle due direzioni. In scipili rallentamenti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carregiata opposta, coda in uscita alla Strassigna. Siamo al traffico urbano di Firenze, domani sabato 25 marzo è in programma la manifestazione ex GKN con corteo da Novoli alla zona della Fortezza da Basso. Possibili disagi alla circolazione privata e al trasporto pubblico locale. Relativamente alla manifestazione segnaliamo che saranno soppresse le fermate sulla T1, Dalmazia, Strozi, Fallaci e Fortezza per l'intera durata della manifestazione. Moversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.